Non c'è bisogno di fare tanto casino. Le tue ultime parole? Non menta. Cercate di non lasciare macchie di sangue. Sono difficili da pulire. Hai un problema da risolvere? Cercate di non lasciare macchie di sangue. Sono difficili da pulire. Le tue ultime parole? Non mi interessano comunque. Hai un problema da risolvere? Assumo le posizioni designate. Cercate di non lasciare macchie di sangue. Sono difficili da pulire. Qui non è successo. Cercate di non lasciare macchie di sangue. Sono difficili da pulire. Più fai veloce, meno farai male. Obiettivo qui non è successo. Hai un problema da risolvere? Obiettivo avvistato. Ci vorrà solo un minuto. Qui non è successo. Più fai veloce, meno farai male. l'obiettivo avvistato. L'obiettivo avvistato. Ci vorrà solo un minuto. Assumo le posizioni designate. Assumo le posizioni designate. Le tue ultime parole non mi interessano comunque. Obiettivo avvistato. Ci vorrà solo un minuto. Un problema da risolvere. Assumo le posizioni designate. Obiettivo avvistato. Ci vorrà solo un minuto. Questo ti farà tacere. Hai un problema da risolvere? Più fai veloce, meno farai male. Hai un problema da risolvere? Le tue ultime parole non mi interessano comunque. Obiettivo avvistato. Ci vorrà solo un minuto. Hai un problema da risolvere? Qui non è successo. Hai un problema da risolvere? Hai un problema da risolvere? Hai un problema da risolvere? Assumo le posizioni designate. Questo ti farà tacere. Hai un problema da risolvere?